Proponeva investimenti in criptovalute senza però essere un professionista abilitato. È stata denunciata alla procura dalle fiamme gialle bassanesi una persona che esercitava abusivamente l'attività di promotore finanziario per investimenti in monete digitali. Grazie alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza attraverso i dati informatici e documentali raccolti dopo diverse perquisizioni nei luoghi di lavoro dell'indagato, è emerso che quest'ultimo aveva costruito una rete di clienti in tutto il Bassanese pubblicizzando una piattaforma di investimento online in valuta virtuale. Proponeva facili profitti nel mercato della criptomoneta accrescendo sempre di più la sua clientela inesperta oltre che la sua posizione gerarchica all'interno della piattaforma del sistema di investimento raggiungendo un ruolo apicale e di conseguenza maggiori guadagni. All'indagato, sottoposto all'obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria dal Tribunale di Vicenza, sono stati sequestrati gli strumenti informatici per gestire l'attività abusiva, oltre che con tanti sospetti per 32.000 euro.